C'è qualcosa che desideri? C'è qualcosa che desideri? In tua vita? Più di energia Più di energia Ci sono cose qui Guardate qui Con molta energia Con molta energia Guardate in miei occhi Occolo Se si riferisce Se si riferisce E ora Con la luce E le sue Non è un'altra La luce Non è un'altra E' un'altra Cosa E' un'altra E' un'altra Cosa E' un'altra La luce E' un'altra Cosa hai sentito? Entra in trance, molto velocemente. E sentire l'energia. Questa tecnica, come ho detto, in Tibet avevano queste prezioni. Grazie per la visione!